Da Sergio Delicoma. Da due anni Monte Sant'Angelo ha raggiunto Andrea d'Alberobello nella lista dei siti UNESCO. La grotta Basilica di San Michele, come Castel del Monte e i trulli di Alberobello. Con una grandissima tradizione storica e culturale e una straordinaria attrattività turistica. I tre comuni pugliesi, dopo l'intesa siglata a Bari nei giorni scorsi con Puglia Promozione e la direzione regionale dei beni culturali, si sono incontrati sul Gargano, per disegnare un percorso comune di crescita, soprattutto turistica. Quando si lavora insieme, quando si lavora per il territorio, in questo caso dell'intera regione Puglia, sicuramente i risultati saranno positivi. Le ricadute potranno essere sicuramente positive, mettendo in collegamento in maniera molto naturale questi tre siti. Poter promuovere l'immagine della Puglia con i suoi siti UNESCO in maniera unitaria, in maniera tale che il turismo culturale possa dare quel valore aggiunto. E per celebrare l'incontro tra i tre patrimoni mondiali della Puglia, a Monte Sant'Angelo musei e monumenti sono rimasti aperti tutta la notte. Un rifugio culturale, ma anche un caldo riparo da temperature insolitamente rigide per questo inizio d'estate.